Spaccacuore è la ballatona del disco, la ballatona nel senso più mobile del termine naturalmente, nel senso che non è l'unica canzone d'amore del disco, ma è quella che celebrerà l'amore bersaniano, sarà la canzone dell'amore bersaniano da lì all'eternità. Di bella questa cosa che sotto fa il bordone sotto. Sì, sono fatti dalle chitarre. Spacacacuore, come dal punto di vista chitarristico, ha una chitarra molto lontana nel missaggio, in realtà si percepisce appena, è una chitarra acustica che viene suonata proprio in forma di accompagnamento. Sì, è una chitarra che si vanno incastrare con il charleson della batteria, mentre invece forse è più interessante l'uso delle chitarre elettriche, che è completamente ad effetti, non c'è neanche un accordo, non si riconoscono neanche come chitarre, perché sono talmente fettate nell'inciso che diventano quasi un rumore che accompagna la voce. Sentiamo la parte finale.